La Pizzeria ha sfatato il tabù in trasferta e Senigallia ha segnato il primo gol in arancione. Sì, sono due verità. Sono contento di questo. Sono contento soprattutto che finalmente siamo riusciti a ottenere la prima vittoria stagionale in campionato, i primi tre punti molto importanti, fatti fuori casa contro una buona squadra che ci ha anche messo in difficoltà, però abbiamo sicuramente giocato un primo tempo ottimo che ci ha permesso di andare in vantaggio con due gol di scarto e quindi poi abbiamo gestito nel secondo tempo. Adesso c'è da vincere in casa a cominciare da sabato prossimo con la Lucchese? C'è da fare un'altra partita a Gagliarda come quella che è stata fatta a Roma, poi indipendentemente da quello che sarà il risultato, credo che se l'atteggiamento e la prestazione sarà uguale a quella che è stata fatta la partita scorsa, credo che ci si possa togliere delle belle soddisfazioni. Quattro settimane importanti vi attendono per le partite contro la Lucchese, Rimini, Tutto Cuoio e Prado. Sono decisive per il vostro futuro? È talmente tanto presto per parlare di partite decisive che non me la sento di dire che lo siano. Vero è che ogni domenica è decisiva e ogni domenica è un piccolo passo verso il raggiungimento dell'obiettivo stagionale, quindi sono tutte partite importanti ma noi dobbiamo guardarne una alla volta e cercare di fare il meglio domenica dopo domenica. Possiamo dire che tu sei all'80% della tua condizione fisico-atletica? Diciamo che sto migliorando nelle ultime settimane, sono arrivato con una condizione un attimino un po' più precaria, probabilmente la differenza di lavoro sia sul campo che atletico tra dove ero prima e adesso si è fatta un po' sentire. Adesso mi sto mettendo sicuramente al 100% e mi sto adattando a quello che è il lavoro specifico sia fisico che tecnico con il mister. Sto iniziando a conoscermi anche con i compagni quindi credo che siamo sulla strada giusta per migliorarci.